Per raccontarvi quello che ho da dirvi dobbiamo fare qualche passo indietro e lo farò in maniera estremamente rapida anche perché riguarda le gare di memoria che interessano davvero pochi ma mi serve per arrivare al punto. Allora nel 2019 io ho vinto i campionati mondiali di memoria campionati che di base si svolgono ogni anno ma nel 2020 c'è stata la pandemia per cui sono saltati per lo stesso motivo sono saltati nel 2021 perché essendo un mondo con pochi sponsor con poca visibilità richiede più tempo prima di prima di ripartire ma sono saltati anche nel 2022 perché gli organizzatori che avevano vinto il bando si sono poi ritirati avevano avuto dei problemi. Il fatto sta che i mondiali saltano per tre anni di fila adesso qualcuno potrebbe dire sei stato fortunato perché così hai mantenuto il titolo molto più a lungo in realtà no perché avrei potuto vincere più volte il titolo mondiale che di fatto ho vinto solo una volta io in tutto questo tempo sono stato primo nel world ranking quindi ero quello con più possibilità non è detto però sono state occasioni sprecate è stato un grande limite un grande ostacolo alla mia carriera da memory athlete e infatti questa cosa l'ho vissuta molto male perché ogni volta che veniva annunciato che non ci sarebbero stati mondiali io ci stavo male mi incazzavo poi però l'ho accettato e nel 2023 ci sarebbero nuovamente stati finalmente i mondiali ve ne ho parlato in qualche video a novembre del 2023 e io non vedo l'ora di partecipare non vedo l'ora di allenarmi per questa competizione per i campionati mondiali che ormai aspetto da quattro anni poi nel frattempo ci sono comunque state tantissime altre gare europee ho fatto due volte il punteggio più alto di tutti i tempi però i mondiali che sono la gara più importante non ci sono stati però ci sono quest'anno novembre india non vedo l'ora di partecipare tutto questo fino a giugno di quest'anno giugno 2023 perché a metà giugno di quest'anno mi ritrovo un po' all'improvviso ad affrontare un periodo molto molto difficile dal punto di vista personale non andrò nei dettagli non mi va di farlo magari un giorno sentirò di volerlo fare ma quel giorno non è oggi e quindi che succede succede che io per due mesi e mezzo non riesco ad allenarmi ma proprio zero arrivo a inizio settembre con due mesi e mezzo di allenamento saltato e mi ritrovo a dover prendere una decisione quella di partecipare o meno perché se prima era scontato era scontata la mia partecipazione non vedevo l'ora adesso non l'hai per niente perché prepararsi per il mondiale e farlo arrivando nella forma con cui io voglio arrivare questo richiede mesi di preparazione ininterrotta di un allenamento serio e di ore e ore per tanti mesi per cui mi ritrovo a dover prendere questa decisione il cui esito sarà negativo quindi il punto di tutto questo è il seguente io non parteciperò ai campionati mondiali di quest'anno per cui a partire da metà novembre 2023 non sarò più l'attuale campione mondiale di memoria ma sarò l'ex campione mondiale di memoria e adesso vediamo quali sono i motivi per cui ho deciso di non partecipare perché ce ne sono tanti e riguardano diversi aspetti allora innanzitutto sarebbe stato possibile prepararsi ai mondiali in due mesi e mezzo da settembre a metà novembre sì sarebbe stato possibile ma uno non sarei riuscito ad arrivare con una forma ideale e due soprattutto una preparazione di questo tipo soprattutto condensata in solo due mesi e mezzo mi avrebbe richiesto una concentrazione una tranquillità mentale anche una presenza un'energia mentale e fisica che io in quel momento non avevo stavo già meglio ma non avevo quell'energia che mi serviva per prepararmi in due mesi e mezzo e avrei dovuto fare una vita e dei sacrifici che in quel momento non era per niente saggio fare e in più in questo periodo estivo la mia scala di priorità di valori è stata demolita ed è stata ricostruita in maniera differente e in questa nuova scala di priorità la mia salute mentale che prima quasi non era considerata occupa adesso una delle prime posizioni il fare questa preparazione andava in contrasto con queste nuove priorità e più in generale in questo momento sono in pausa dalle gare pausa che ancora non so quanto durerà e ci sono anche altri aspetti perché intanto in realtà a settembre quando io ho dovuto prendere questa decisione in realtà era scontata cioè era scontato che io non avrei dovuto partecipare ci ho semplicemente messo più del previsto ad ammetterlo perché è stato difficile io non volevo però era abbastanza scontato ho dato tutti questi 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 elementi e durante questo periodo decisionale in cui ho ripreso ad allenarmi ho valutato il tutto e ho dovuto iniziare a mettere tanti elementi sui due piatti della bilancia e mi sono accorto di una cosa una cosa molto importante che io quest'anno a differenza di tutte le altre gare che ho fatto io avrei partecipato principalmente per gli altri per non deludere le aspettative per una motivazione che era prevalentemente esterna non era una motivazione intrinseca e non si può fare qualcosa di così difficile per una motivazione esterna per non deludere le aspettative degli altri cioè quando io nel 2019 ho partecipato ai mondiali e ho fatto tutte quelle gare cioè io neanche avevo i social mi interessava solo di partecipare e dimostrare sì anche agli altri ma soprattutto a me stesso il mio valore in quel determinato in quel determinato campo e questo va anche a braccetto con un altro elemento anch'esso molto importante ovvero mi sono accorto che stavo sviluppando un eccessivo attaccamento al titolo di campione mondiale di memoria cioè stavo facendo corrispondere troppo la mia identità a quella del titolo di campione mondiale di memoria quindi che succede se questo se ne va? non succede niente perché io sono prima Andrea e poi campione mondiale di memoria e segnatevi che se voi fate corrispondere la vostra identità a quella di un titolo esterno uno status, un lavoro siete in una situazione molto pericolosa perché quel qualcosa non è fisso e se ve lo tolgono, se vi tolgono quel titolo, quello status, quel lavoro e la vostra identità si basa su quel qualcosa poi siete nella merda perché se vi viene tolto vi manca la terra sotto i piedi io mi sono accorto che ero in questo rischio lo ero soprattutto anni fa, man mano sono migliorato ma partecipare in questo momento significava attaccarmi in maniera eccessiva a questo titolo per paura che cambiasse la mia identità ed è stato un altro grande campanello di allarme che mi ha fatto capire che non era una motivazione giusta e che anzi era pericolosa in più in questo momento gran parte della mia motivazione e della mia ossessione in questo momento e in generale nell'ultimo periodo è molto di più nell'aspetto lavorativo ho tanti progetti ai quali sto lavorando e in cui credo e quindi mi sarebbe dispiaciuto anche in questo momento togliere tantissimo tempo e tantissime energie che erano quelle richieste per i mondiali a quello che in questo momento mi interessa di più e tra l'altro in tutto questo ovviamente io continuo anche ad allenare il team italiano dei memory sports con dei ragazzi che stanno diventando fortissimi anche se ripeto stiamo parlando di gare e so che alla maggior parte di voi non interessa tutto questo ma io mi sono fatto conoscere a voi mi sono fatto conoscere al mondo come campione mondiale di memoria e quindi volevo fare questo video anche se questo video probabilmente per la prima volta è un video che io faccio più per me che per il mio pubblico perché questa decisione anche se era scontata in realtà è stata molto difficile per me è stato molto difficile decidere e ammettere di non poter partecipare non poter, non voler, insomma mettiamola come vogliamo di non partecipare ai mondiali è stato difficile, è stata una scelta che in realtà era ovvia ma mi è pesata molto e quindi un video di questo tipo lo sentivo importante sentivo importante dover condividere questa cosa e non farla passare in sordina quindi a partire da metà novembre non sarò più l'attuale campione mondiale di memoria sarò ancora primo nel world ranking perché richiede tantissime gare per cambiare però vabbè comunque non cambierebbe nulla ugualmente e questo ovviamente non era un video in cui ci sono degli spunti pratici da portare via o meglio, secondo me ce ne sono ce ne sono anche tanti semplicemente questa volta non li ho formalizzati nella solita bullet list di elementi pratici da applicare subito però ci sono degli elementi che ritengo importanti da capire che questo periodo mi ha fatto comprendere quindi con questo ci salutiamo e ci vediamo presto